Giornata dedicata al taglio del nastro per l'apertura ufficiale del nuovo collegamento diretto tra la strada regionale 11 e la zona industriale di Monticchio Maggiore, noto con il termine di complanare. Da stamattina si è potuto decretare lo stop ai disagi e la circolazione in cui hanno risentito in particolare i lavoratori diretti all'area produttiva castellana, regalando ad automobilisti, camionisti e generali fruttori dello snodo un consapevole risparmi in termini di tempo. L'opera viaria di collegamento è stata realizzata dal consorzio SIS nell'ambito dei lavori sulla superstrada Pedemontana Veneta. Già dalle 9 di oggi, martedì 4 agosto, i primi autoveicoli hanno potuto transitare lungo il tratto ultimato da pochi giorni. Si tratta di un importante tassello della rivoluzione viabilistica legata alla Pedemontana, ha commentato il sindaco Trappola durante la breve cerimonia di inaugurazione. Importante perché da oggi i mezzi provenienti dal casello autostradale della strada regionale 11 per accedere alla zona industriale non dovranno più percorrere in direzione nord l'intera tangenziale e poi tornare indietro, ma avranno un collegamento diretto con l'area produttiva della città. Per questo motivo, assieme al sindaco e all'assessore alla viabilità Carlo Colalto, al taglio del nastro erano presenti i locali rappresentanti delle categorie economiche. La superstrada Pedemontana Veneta, spiega all'assessore alla viabilità Colalto, ci ha assicurato che tutte le complanari saranno completate tra la fine di settembre e i primi di ottobre di quest'anno.